L'esercizio di oggi, come avevamo già accennato una volta precedente, è un altro esercizio sulle simulazioni, di cui vi ho mandato il link alla pagina GitHub, ma in realtà guardiamo insieme sulle slide il testo che era proposto. Aspetta che riesca a condividere la slide giusta. Noi vogliamo simulare ciò che succede nel pronto soccorso di un ospedale, dove sapete che le persone arrivano con vari tipi di problemi più o meno gravi e è importante nel pronto soccorso che le persone vengano trattate non in ordine di arrivo, ma in ordine di gravità. Quindi simuliamo che cosa succede quando arrivano persone diverse e l'organizzazione del pronto soccorso è composta di fatto da una fase iniziale che in gergo ospedaliero si chiama triage, dove il paziente arriva, viene accolto rapidamente, da un infermiere tipicamente, che gli assegna un codice di gravità, cioè un esame molto rapido, non c'è il medico che visita, semplicemente un colloquio, prende una pressione, due cose veloci, ma rapidamente questo paziente deve avere un codice di severità assegnato, che è relativo a quello che viene stimato nella gravità della sua situazione. Dopodiché entra in una sala d'attesa e ci sono una certa serie di studi medici, diciamo così, chiamiamoli NS, numero di studi, nei quali poi le persone vengono effettivamente visitate e trattate. Questo dipende da quanti dottori sono in servizio, quindi uno, due, tre, quattro, diciamo così, studi, che lavorano in parallelo, nel senso che appena uno di questi studi si libera, chiamano il prossimo paziente, lo trattano, fanno quello che devono fare, è finito questo, lo mandano a casa, e poi chiamano il prossimo paziente e così via. A turno, quindi diciamo in continuazione. A cosa serve il codice di severità? Il codice di severità dà la priorità nell'accesso agli studi medici, quindi quando uno studio medico si libera, verrà chiamato il prossimo paziente che ha la gravità più alta, quindi se ci sono pazienti rossi, verrà chiamato il prossimo paziente rosso, se ci sono pazienti, diciamo così, gialli con gravità intermedia, verrà chiamato, e non ci sono pazienti con gravità forte, verrà chiamato il primo paziente con gravità intermedia e così via. A parità di codice di severità vale invece l'ordine di arrivo. Quindi, noi abbiamo degli eventi che succedono durante la giornata, ma la regola è che i pazienti non vengono chiamati in ordine di arrivo, vengono chiamati invece in ordine di gravità, e a parità della gravità vengono invece chiamati in ordine di arrivo, tra coloro che hanno lo stesso livello di gravità. Chiamati però solamente quando uno studio si libera, ovviamente. Ok, tradizionalmente i codici di gravità vengono codificati come dei colori, e quindi abbiamo quella che viene chiamata la gravità rossa, che sono, diciamo così, delle situazioni che sono sia serie che urgenti, le persone rischiano la vita e quindi devono essere trattate il prima possibile. Poi invece ci sono le persone che sono serie ma non urgenti, che hanno delle, diciamo così, qualche cosa di grave ma non di urgente, che è una sorta di spaccato una gamba, sì, questo è grave, però non è urgente, se sapete 5 minuti non cambia nulla, tanto oramai l'osso è rotto, no? A meno che non ci siano, sono invece più gravi, allora diventa anche urgente, emorragia, fa sapere che cosa. Quindi in questo caso c'è il codice di gravità intermedia che è il giallo, e poi c'è il codice di gravità più basso che è il codice bianco, in cui effettivamente sì, cioè devo guardarti, ma non hai nulla di urgente, quindi se anche aspetti 4 ore va bene lo stesso, ovviamente non aspetti 4 ore perché gli altri sono andati a prendersi un caffè, ma perché ci sono pazienti più gravi davanti a te. Mentre queste persone sono in sala d'attesa, possono succedere delle cose, tipicamente un paziente bianco, ipotizziamo che dopo un certo tempo, che chiamiamo white time out, questo qui si stufa e se ne va a casa, dice vabbè io ho aspettato 4 ore, nessuno mi ha guardato, si vede che oggi è una giornata complicata, avranno altri pazienti, io tutto sommato non ho nulla di grave, posso tornare domani oppure posso arrangiarmi diversamente, e allora vado a casa, se sono un codice bianco. Se sono un codice giallo, può darsi che se la mia attesa si prolunga, possa aggravarmi, la mia situazione possa aggravarsi e quindi possa diventare un codice rosso, quindi se un codice giallo rimane troppo in attesa, questa è un'ipotesi che facciamo sulla nostra simulazione chiaramente, rimango troppo in attesa, allora mi aggravo, divento passo tra i codici rossi, e quindi diciamo così, la fermiera si è in accordo, dice scusi lei ha una faccia che non mi piace tanto, aspetta che ricambio il codice colore, così passa prima. E così come se, adesso qui chiaramente lo prendiamo alla leggera perché è un esercizio, ma se un codice rosso rimane troppo in attesa, oltre a un certo tempo, che chiamiamo appunto qui time out di rosso, diciamo che passa a codice nero, e il codice nero rappresenta il fatto che il paziente se ne è andato, nel senso che è morto, nel senso che è tornato a casa, era già grave, era già urgente, ha aspettato troppo, e vabbè, pazienza, è morto in sala d'aspetto, quindi a questo punto in realtà, dal punto di vista del pronto soccorso, degli studi medici, non devo più far nulla, nel senso che non ha bisogno di essere curato, però chiaramente è un evento che il nostro sistema, diciamo così, di gestione, dovrebbe il più possibile evitare. Allora questo è quello che può succedere, diciamo così, nel nostro pronto soccorso. Qui ho messo alcuni numeri a caso, tanto per avere dei riferimenti nella simulazione, dei tempi magari che richiede la triage, la triage è da quando il paziente arriva, al momento in cui gli verrà assegnato un codice colore, supponiamo che l'infermiera ci metta 5 minuti, il triage è rapido, che non ci sia mai da fare coda al triage, non devi mai aspettare, nel momento in cui arrivi immediatamente vieni guardato e 5 minuti dopo sei in strada attesa col tuo codice colore assegnato. E poi quando entri in uno studio medico, il medico deve lavorare su di te una quantità di tempo che è variabile in funzione del colore, quindi supponiamo che, ad esempio, un codice bianco, una volta che entra in uno studio medico ci rimanga per 10 minuti, invece un codice rosso magari ci rimane per 30 minuti, perché ha bisogno, diciamo così, di operazioni più complicate. Trovo dei numeri, adesso non ho idea, bisognerebbe andare a prenderli, diciamo quelli reali in ospedale, che farà magari un modello un pochino più corretto, ma per partire, per fare un esercizio, diciamo che sono dei valori di riferimento diversi tra di loro, che ha senso che siano in ordine crescente, ovviamente. Quindi, che cosa succede ai nostri pazienti? Il paziente, chiamiamolo P, come Pippo o come paziente, arriva, viene subito, nel momento in cui arriva, viene questa operazione di triage, e dopo il triage il paziente avrà un paziente più colore, cioè dopo la fase del triage al paziente abbiamo assegnato anche un codice colore, che è il suo codice di gravità. A questo punto il paziente entra in sala d'attesa, e ci rimarrà di base fino a quando non ci sia uno studio, uno tra i vari studi medici, che si libera, e quindi a questo punto il nostro paziente può entrare nello studio 3, perché si è liberato in questo momento. ci rimane per un certo tempo, che dipende dalla sua gravità, e poi esce dall'ospedale. Quindi questo è il percorso normale che fanno i pazienti. Poi ci possono essere dei casi in cui i pazienti aspettano troppo qua nello stato di attesa, e quindi ci possono essere percorsi diversi, tipo il bianco che si andava a casa, tipo il giallo che si aggrava, tipo il rosso che invece muore. Quindi durante la sala d'attesa non è uno stato puramente passivo, statico del paziente, ma è uno stato in cui possono succedere delle cose. E noi dobbiamo simulare che possano succedere delle cose. Quindi l'avanzamento dall'arrivo alla fine del triage è un avanzamento basato sul tempo. Noi abbiamo detto che per fare questa operazione ci vogliono 5 minuti. L'avanzamento invece dalla sala d'attesa allo studio del medico dipende da quando lo studio del medico si libera, quindi dipende da questo evento di uscita. Quindi quando qui esce il paziente Q, allora lo studio diventa libero, allora possiamo chiamare il paziente P, che era in attesa, che è quello, diciamo così, che ha maggior priorità all'interno della sala d'attesa. Ricordiamoci che qui dentro i pazienti entrano in qualche modo in ordine di arrivo, ma escono in ordine di priorità. Quindi non è detto che l'ordine di uscita, anzi assolutamente l'ordine di uscita, non sarà l'ordine di arrivo e quindi dobbiamo un po' complicare questa cosa. Questo in qualche modo ci suggerisce che anche la sala d'attesa in qualche modo dovrà essere gestita con una coda prioritaria, in modo che io sappia sempre qual è il prossimo paziente che devo chiamare. Indipendente dagli eventi temporali, che anche per loro usiamo una coda prioritaria, ma quello ormai lo sappiamo perché c'è la variabile tempo che ci dice che cosa succede prima e che cosa succede dopo. Ok, quindi praticamente il nostro modello del mondo che cos'è? Dicevamo, il simulatore deve fare evolvere un modello del mondo, quindi ha delle variabili attraverso le quali descrive una istantanea di che cosa sta succedendo all'interno del nostro pronto soccorso. E noi essenzialmente dobbiamo avere l'elenco di pazienti, chi ci sono nel nostro sistema e qual è lo stato di ciascun paziente. Qui il modello del mondo mi deve dire, guarda io ho 10 pazienti in questo momento, uno sotto triage, 8 sono in sala d'attesa di cui 3 con codice rosso e 2 con codice giallo e un codice bianco e gli altri due sono rispettivamente nello studio medico 1 e nello studio medico 2. Quindi lo status può essere sicuramente il codice colore, ma può anche essere in questo momento è ancora in triage oppure in questo momento è in uno studio medico, lo stiamo trattando, lo stiamo curando. Se io sono nella sala d'attesa l'unica cosa che conta è il colore che ho, ma può darsi che il paziente sia fuori dalla sala d'attesa, quindi abbiamo questi vari percorsi, questi vari stati interni del paziente. Le informazioni sul paziente sono indipendenti dagli eventi temporali, noi qua ci stiamo chiedendo in un determinato istante di tempo se io entrassi nel pronto soccorso e facessi una fotografia di ciò che c'è, come lo descrivo? Lo descrivo ad esempio appunto dando un elenco di pazienti e per ciascun paziente dico dov'è, dov'è e qual è la sua gravità per carità. Gli eventi invece sono quelle azioni che fanno cambiare lo stato del mondo, fanno cambiare quindi lo stato di questa collection di pazienti e che vuol dire che possono far aumentare il numero di pazienti, possono far diminuire il numero di pazienti e possono far cambiare lo stato di uno di pazienti. E che cosa è che può far cambiare questo? Io qua ho provato a riassumerlo in una sorta di macchina stati che mi fa vedere quali sono gli stati in cui si può trovare il paziente e quali sono gli eventi in qualche modo, almeno i principali, poi quando implementeremo vedremo se ci bastano, come sempre partiamo da una prima analisi, quali sono gli eventi invece che mi fanno spostare tra i vari stati. Quindi ho provato a riassumere gli stati in cui si può trovare il paziente con le sfere, con i cerchi, con gli stati di questa macchina stati. E le frecce rappresentano le transizioni da una condizione all'altra e quindi ci dovranno essere degli eventi che causano queste transizioni. Quindi un paziente appena arrivato, supponiamo che sia nello stato che ho chiamato new, quindi new vuol dire è in fase di triage, è appena arrivato, lo sta guardando l'infermiere di triage. Come faccio a uscire da questo stato di new? Beh, passano i 5 minuti del triage, quindi ho un evento, posso chiamare triage questo evento, che mi fa passare dallo stato new allo stato che qui ho chiamato waiting. Di stati waiting ne ho disegnati 3, perché potrei essere waiting, quindi in strada stesa, col codice bianco, col codice giallo, col codice rosso. Quindi a valle e quando il paziente arriva, entra in triage, entra in questo stato, io sono un nuovo paziente. Dopo 5 minuti, c'è la durata del triage, non sono più un nuovo paziente, divento un paziente in attesa, con codice bianco o giallo o rosso. Poi, quando io sono in strada attesa, posso passare in uno stato che si chiama treating, cioè mi stanno curando, cioè sono dentro uno studio medico, dentro uno degli studi medici. Come faccio a passare dalla sala d'attesa a uno degli studi medici? Come dicevamo prima, se questo studio si libera, allora posso spassare. Passerà un bianco, oppure un giallo, oppure un rosso, secondo le regole di priorità, chiaramente. E poi, quando sono entrato nello studio medico, a un certo punto, dopo un certo tempo, che dipende dalla gravità che avevo, passo out, quindi sono guarito, in qualche modo. Quindi, qui chiamo guarito, guarito, scriviamo in italiano, guarito, e posso passare dall'altra parte. Quindi, questo è il flusso normale. E poi ci sono i flussi, diciamo così, anomali, quando passa un certo time out, e il paziente era, codice bianco, in lista d'attesa, allora va a casa, abbiamo detto. Quindi lo metto fuori dal sistema, ma è tornato a casa, senza essere visitato. Questo time out è il time out del giallo, che mi dice quando un paziente è stato troppo in attesa, con codice giallo, si aggrava e diventa codice rosso. E questo time out, invece, è il time out del rosso, che dice che quando un paziente è rimasto troppo in attesa, con codice rosso, diventa codice nero. E da qua, ovviamente, non si muove più, in un certo senso. Non può più succedere di nulla, purtroppo, per lui. Quindi, se noi schematizziamo questo in questo modo, noi stiamo dando un modello discreto di quello che è la descrizione di un paziente. Cioè, lo stiamo riassumendo in alcuni stati fondamentali. E stiamo descrivendo quali sono le modalità con cui questo paziente può passare da uno stato all'altro. Queste modalità, per passare da uno stato all'altro, sono le transizioni, sono le frecce, che ci sono da questi vari stati, che dovranno, ovviamente, corrispondere a degli eventi, eventi nel sistema. La differenza rispetto alla simulazione della volta scorsa, è che la volta scorsa, per il noleggio auto, i clienti erano tutti uguali. Non avevo nessuna informazione sui clienti. Quindi avevo solamente informazione sugli eventi, che poi erano molto semplici. Qui, invece, abbiamo un'informazione che dipende dal paziente, fortemente dipendente dal paziente, no? Perché, secondo le sue caratteristiche, succedono cose molto diverse. E allora, dobbiamo modellare un po' meglio, diciamo così, quello che chiamiamo modello del mondo, con le informazioni sul paziente, e le quali, ovviamente, avranno influenza sugli eventi, sullo svolgersi degli eventi, così come lo svolgersi degli eventi andrà a modificare le informazioni sul paziente. Quindi, per questo, è un pochino più complicato. Allora, quando abbiamo queste due cose, nel caso di cui sia, diciamo così, un modello facile da discretizzare, in stati finiti, una rappresentazione di questo genere, ci riassume, in modo molto compatto, buona parte dei ragionamenti che dobbiamo fare. Cioè, quali sono gli stati in cui si può trovare, in questo caso, il paziente, e quali sono i modi, gli eventi, che possono causare una variazione di questo stato. Questa cosa qua, la dobbiamo tradurre, chiaramente, in codice, in un algoritmo di simulazione, che parta, di fatto, con dei parametri iniziali. Quali sono i parametri di simulazione? Beh, sicuramente tutto dipenderà dai vari time out, dai vari tempi, ma quello, vabbè, sono dei numeri, che, diciamo così, impostiamo in modo più o meno ragionevole. La simulazione varierà sulla base del numero di studi medici, a seconda di quanti studi ho in parallelo, chiaramente, questo pronto soccorso lavora più o meno rapidamente, e in funzione dell'arrivo dei pazienti. Noi possiamo pensare che questi pazienti arrivino, arrivino un certo numero di pazienti, numero pazienti totale, che arrivino ad ogni intervallo di tempo, anche qua possiamo ipotizzare, un tasso di arrivo costante, come prima approssimazione, chiaramente. E un'altra ipotesi che dobbiamo fare è la distribuzione delle gravità di questi pazienti. Cioè io posso dire che un paziente arriva ogni 5 minuti, ok, ma questo paziente sarà, sono tutti i codici bianchi, sono tutti i codici rossi, allora anche qua, per semplicità, possiamo ipotizzare, queste sono tutte ipotesi di simulazione, non sto più descrivendo come funziona il pronto soccorso, sto descrivendo come alimento la simulazione con degli eventi, diciamo così, ipotetici. Allora l'ipotesi che posso fare è dire, vabbè, facciamo finta che il primo paziente che arriva sia un bianco, il secondo sia un giallo, un terzo sia un rosso, e poi ricominciamo da bianco, giallo, rosso e così via, a turno. Quindi una segnazione circolare dei codici di priorità, quindi primo bianco, poi giallo, poi rosso. Potrei farla casuale, è qui probabile, però vabbè, qui c'è scritto di farla, diciamo così, a turno, quindi i primi dieci pazienti saranno un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, e poi ancora un bianco per arrivare a dieci, e si inseriscono ad un certo tempo di arrivo che è costante. È chiaro che probabilmente sarebbe molto più realistico avere sia il tempo di arrivo che l'assignazione del codice colore sulla base di un modellino probabilistico. Però partiamo come sempre dalle cose semplici, perché a complicarle siamo sempre in tempo. E anche qua possiamo simulare un certo intervallo di tempo, diciamo dalle 8 alle 20, di funzionamento del nostro pronto soccorso. E alla fine cosa vogliamo sapere? Quali sono i fattori di valore del nostro pronto soccorso? Sicuramente quanti pazienti ho curato, quanti pazienti sono andati a casa, i codici bianchi si sono stufati, e quanti pazienti invece sono morti mentre erano in attesa, in sala d'attesa. E magari ovviamente il numero di pazienti totali che sono entrati, che sarà la somma di questi tre numeri, se lasciamo che ovviamente la simulazione esaurisca tutti i pazienti che sono anche in sala d'attesa dopo le ore 20. Ok, questi sono i valori che ci servono, fondamentalmente sulla base del dimensionamento del pronto soccorso, quindi il numero di studi, e sulla base in qualche modo del carico di lavoro, cioè quanti pazienti arrivano e quanto frequentemente arrivano, io riesco a capire se questo pronto soccorso funziona bene, nel senso che le persone che arrivano vengono tutte curate e mandate a casa, oppure se abbiamo un tasso troppo elevato di persone che abbandonano, oppure persone che, diciamo così, si trovano a morire dentro la sala d'attesa. Ok? È chiaro il modello che vogliamo implementare? Ok, allora, se non vedo domande, quindi spero che non stiate tutti dormendo, possiamo passare a provare a implementarlo. Ci siete? Bene. Adesso, chiaramente, a parole sembra sempre tutto facile, proviamo, diciamo così, a lavorarci nel progetto. Allora, io questa mattina, tanto per risparmiare un po' di tempo, ho creato delle classi vuote, quindi non sperate che ci sia nulla nel progetto di partenza, perché c'è una classe evento, una classe simulatore, e una classe test simulatore, che non contengono nulla, beh, perché ovviamente ci dobbiamo lavorare adesso, faccio solo un branch soluzione, così teniamo separato il master dove ci succede il progetto vuoto, rispetto alla soluzione che facciamo insieme. Ok, quindi lavoriamo dentro questo branch simulazione. Allora, come avete visto, avevo scritto su Telegram qualche giorno fa, GitHub ha aggiunto una caratteristica molto interessante che mancava, effettivamente, è il fatto che quando voi fate un fork di un progetto, come probabilmente avrete fatto il fork di questo, per lavorarci insieme alla lezione, prima, nel momento del fork, praticamente il progetto di partenza e quello forcato, diciamo così, erano totalmente indipendenti, separati, quindi nel caso in cui uno aggiornasse il progetto di partenza, non c'era più modo, non semplice perlomeno, di aggiornare la vostra copia del progetto. Invece adesso hanno aggiunto un bottoncino, in cui, in un fork, posso andare a prendere gli aggiornamenti del progetto di partenza. E quindi questo è comodo, perché così potete avere sia l'aggiornamento del progetto, magari che facciamo una lezione, sia l'aggiornamento, contemporaneamente anche il coge che state facendo voi. Perché non si mescolino le cose, è importante, secondo me, che voi lavoriate in un branch diverso dai branch che ci sono pubblicati sul progetto di partenza, perché altrimenti lui poi cerca di mettere insieme, magari, il branch soluzione che ho fatto io, con il branch soluzione, che si chiama soluzione, che avete fatto voi, e sicuramente darà poi una serie di conflitti, perché le cose le scriviamo in modo leggermente diverso. Ok? Quindi, se volete usare questo, potete benissimo farvi un branch vostro che sia diverso dal nome del branch che usiamo noi, e così, poi potete avere, nello stesso progetto, semplicemente cambiando branch, la soluzione che abbiamo pubblicato noi e la soluzione che avete sviluppato voi. Mi sembra una cosa molto comoda. Prima non c'era, e per fortuna siamo venuti nel momento giusto in cui hanno pubblicato questa caratteristica, questa nuova funzionalità. È un bottoncino sulla pagina del progetto di GitHub che compare solamente, ovviamente, se il vostro progetto è un fork di un progetto di altri. Ok. Allora, partiamo. Partiamo come? Allora, io tra queste varie classi che ho fatto ne manca una, che è il paziente, che in realtà è la classe più importante, perché è quella che ci serve per rappresentare il modello del mondo, come l'abbiamo chiamato. Quindi questa classe paziente è una classe che dovrà rappresentare le informazioni che mi servono su questo singolo paziente. In modo che poi io possa mettere questo in una bella lista o in una cosa prioritaria, adesso decidiamo poi dove andranno a finire queste informazioni, che rappresentano i pazienti che sono attualmente dentro il pronto soccorso. Cosa mi serve? Beh, sicuramente mi servirà conoscere il codice colore di questo paziente, mi servirà conoscere probabilmente anche il tempo d'arrivo. Perché? Perché mi serve conoscere il tempo d'arrivo? Perché è una regoletta che mi dice che a parità di codice colore deve passare chi è arrivato prima. Allora, in questo caso, mi serve anche l'informazione sul tempo d'arrivo. e poi pensiamo che cos'altro. Quindi, noi possiamo avere di fatto avremo due informazioni principali su questo paziente. Non abbiamo il nome e il cognome e altro, ma abbiamo il tempo d'arrivo. Quindi potrebbe essere una private local time arrival time e poi posso avere il codice colore. Il codice colore, come lo rappresento? Beh, potrei fare, come facevamo già per gli eventi, un'enumerazione di costanti. Quindi un public enum color code e questo avrà quali codici può avere. Sicuramente ho bisogno di un codice per la gravità. quindi rosso, verde e bianco. Quindi red yellow facciamo il contrario white yellow red purtroppo anche black è un colore possibile poi in realtà non è solo il codice colore ma come avevamo visto qui il paziente poteva essere anche in altri stati che non fossero direttamente legati alla sala d'attesa. Quindi quando sono in sala d'attesa vale il colore. Ok? Qua. Però può essere che ci sia un paziente appena arrivato in attesa di triage un paziente già in studio un paziente già uscito quindi devo aggiungere almeno questi nuovi stati per descrivere che cosa sta facendo il paziente. Quindi dovrò aggiungere uno stato di new ad esempio che quindi è in triage poi white yellow black eccetera eccetera sono in sala d'attesa poi ho lo stato di treating cioè sono dentro uno studio medico e poi uno stato che avevamo chiamato out a casa perché ho abbandonato oppure sono stato curato questi sono gli stati che abbiamo copiato dal dal diagramma stati precedente può darsi ci bastino può darsi non ci basteranno non lo sappiamo ancora però perlomeno ci sembrano quelli necessari e quindi il paziente oltre a avere come informazione il tempo di arrivo avrà anche come informazione private il codice colore color code e questa è la classe paziente gli facciamo i soliti metodi il costruttore che parte da un arrival time e da un colore ovviamente e il get resetter per poter lavorare con questo oggetto get resetter di arrival time di color Beatrizia mi chiede il time out allora il time out è un'informazione dinamica che ricordiamoci cosa abbiamo detto prima lo stato del sistema lo stato del sistema è una fotografia della situazione in quell'istante di tempo quindi se io vado entro in un pronto soccorso vedo che ci sono dieci persone in sala d'attesa non so da quanto queste persone stiano aspettando siano arrivate o meglio posso sapere andando a vedere il tempo di arrivo ma non so quando si stuferanno perché è un'informazione che non è sul tempo presente il time out io lo vedo più come evento è qualcosa che succederà e quindi nella coda degli eventi ci sarà un evento che è proprio il time out dovremo creare un evento che è il time out che dice guarda tra 5 minuti quella persona lì si stufava a casa tra 10 minuti quell'altra persona si aggrava ok il time out è una se lo vogliamo vedere qui è una freccia che porta da uno stato all'altro allora ciò che porta da uno stato all'altro è un evento perché fa passare il tempo fa succedere qualcosa invece quando sono dentro uno stato il tempo diciamo così lo vedo fermo congelato e sto descrivendo la situazione attuale ok non è non è banale non è neanche l'unica scelta diciamo così perfetta quello che sto facendo io adesso però chiaro che approfitto della domanda per condividere il fatto che non è così scontato riuscire a distinguere che cosa modello come stato che cosa modello come eventi io la domanda che mi faccio è ma quella cosa lì time out è un evento se fa cambiare lo stato è uno stato se invece è qualcosa che si vede anche se il tempo non cambia anche a tempo costante quindi in questo caso a me pare più corretto modellarlo come un evento ok Mario ci dice modellare a parte il colore degli stati sì sarebbe anche possibile nel senso che Mario sta pensando a due diciamo così due proprietà diverse una solo il colore quindi bianco rosso o bianco bianco giallo rosso e poi invece un'altra diciamo così un'altra informazione un'altra variabile separata che mi dice se sono new se sono morto se sono curato oppure se sono andato a casa sì sicuramente sarebbe altrettanto valido vorrebbe dire che in pratica quando io sono treating è come se io avessi un treating e poi poi posso dire se sono treating white oppure yellow yellow oppure red e se sono out cioè di fatto per ogni stato ogni stato del mio sistema è sua volta diviso in tre colori ok sarebbe un'informazione sicuramente più più completa sicuramente più completa vediamo se ci serve o no ok sì sarebbe sicuramente valido perché mi porto dietro comunque l'informazione del codice colore che avevo e indipendentemente mi porto dietro l'informazione su a che punto sono nella trafila sì sarebbe un'altra possibilità quando avevo pensato a questo esercizio mi sembrava che il colore servisse solo e soprattutto in sale d'attesa perché nel resto del sistema mi serviva di meno ma ho pensato di non modellarlo ma è una scelta altrettanto valido sarebbe stata quella di separare lo stato di avanzamento rispetto al colore il triage è questo stato new questa condizione new in cui dico io quando creo un paziente lo creo in condizione new e poi so che dopo 5 minuti lui diventerà white oppure yellow oppure red perché è ciò che viene fatto dal triage ok quindi chiamiamolo new chiamiamolo triage questo primo stato è quello è quello diciamo così in cui l'utente è arrivato e sta diciamo così viene valutato dall'infermiere in questo caso stiamo ipotizzando che non ci sia coda al triage anche perché come dice Manuel perché a questo punto io so che una persona se è entrata immediatamente nel momento in cui entra iniziano diciamo così 5 minuti dedicati al triage quindi stiamo ipotizzando che non ci sia coda che ci sia un numero di infermieri di triage sufficiente a servire tutti a ricevere tutti in tempo zero altrimenti bisognerebbe complicare bisognerebbe avere uno stato in più che è una coda pre-triage che a questo punto diventa una coda puramente fifo primo arrivato primo servito e poi ci sarebbero i 5 minuti del triage sarebbe un passaggio in più davanti per semplicità non lo stiamo ancora non lo stiamo mettendo questo quindi ipotizziamo veramente che il triage e io arrivo immediatamente l'infermiere di triage mi accoglie ok questa è un'informazione che può avere il paziente e cosa fa evolvere il paziente da uno stato all'altro beh degli eventi che fanno spostare cambiare stato allora quali sono gli eventi che voglio simulare che devo simulare nella classe evento anche qua avrò la mia bella numerazione che chiamo come sempre event type e proviamo a elencare qua quali sono i tipi di eventi che ci interessano allora un primo tipo di eventi è quando arriva un paziente quindi possiamo chiamare arriva un nuovo paziente entra in triage quindi qui non pensiamo alla coda di ingresso del triage stiamo pensando che l'arrivo del paziente e l'ingresso in triage siano contemporanei simultanei poi abbiamo l'evento che in cui il triage è finito e quindi possiamo chiamarlo triage quindi vuol dire è finito il triage e entra in sala d'attesa con un certo colore ovviamente che il triage è deciso ha definito io ho un evento unico triage perché il colore non è una proprietà dell'evento è una proprietà del paziente quindi quel paziente lì gli avrò scritto dentro ok adesso tu sei rosso e quindi vai in sala d'attesa poi come faccio a uscire dalla sala d'attesa posso uscire per tre motivi o torno a casa o vengo messo in uno studio medico oppure muoio ok sono tre motivi che in realtà qua avevamo riassunto tutti e tre con la parola time out perché la causa è la stessa è passato un certo tempo da quando sono entrato in quella sala d'aspetto con quel codice ok poi l'intervallo di tempo di time out cambia e anche il colore e l'effetto cioè ciò che succede quando scatta questo time out cambia perché ovviamente dipende dal colore che avevo però ci sono dei movimenti degli spostamenti che dipendono puramente dal tempo quindi possiamo chiamare un evento time out quindi passa un certo tempo di attesa e poi c'è l'evento interessante che è quello di invece di essere curato di essere chiamato in uno studio medico questo qui free studio cioè c'è uno studio libero e quindi se io sono bianco o giallo o rosso posso finalmente essere ammesso allo stato di treating cioè sono in cura e quindi chiamiamolo free studio si è liberato in uno studio medico si è liberato in uno studio chiamiamo qualcuno qualcuno può essere ammesso ok alla fine c'è l'evento in cui invece vengo curato qui veniva chiamato ecco quello che non avevamo non avevamo scritto come si chiamava questo evento potrebbe essere l'evento treated paziente curato ok quindi queste sono le cose che possono succedere che causano una variazione dello stato del paziente quindi lo stato può essere uno di questi e l'unici modi per passare da uno di questi stati a uno degli altri stati è che arrivi uno di questi eventi ok ovviamente alcuni eventi hanno senso in alcuni stati e non in altri e viceversa allora a questo punto la nostra classe evento sarà molto semplice avrà sempre il solito tempo la solita parametro di tempo private local time time facciamoli importare già punto time quindi è la marcatura temporale dell'evento stesso avrò il tipo di evento quindi private event type type e poi ovviamente devo sapere qual è il paziente cioè se l'evento arrival arriva un paziente ma quale paziente perché poi ovviamente devo quando farà il triage dovrò assegnare un colce colore a quel paziente lì quindi ho bisogno che l'evento si ricordi di quale a quale paziente è relativo qui la differenza rispetto a quello del noelgio auto dove c'era qualcuno che restituiva un'auto invece qui devo sapere esattamente chi è diventato rosso è diventato bianco quindi avrò anche un riferimento un patient dentro il mio evento e poi avrò i soliti metodi per creare l'evento quindi crediamo il costruttore crediamo il get resetter get resetter ok e poi fondamentale creiamo il comparatore perché ricordiamoci che questa quota di eventi deve essere inserita in una quota prioritaria quindi devo implementare l'interfaccia comparable su eventi e quindi deve imprendere essenzialmente il metodo compareTo other dove deve confrontare il tempo la marcatura temporale quindi deleghiamo al nostro local time quindi this.time compareTo other.time quindi il criterio di confronto tra eventi è sempre il criterio di confronto tra il tempo in cui l'evento si svolge la coda degli eventi è una coda puramente cronologica il concetto di priorità del paziente eccetera sta nel paziente sta nell'elaborazione dell'evento ma l'ordine con cui vengono elaborati gli eventi deve essere necessariamente cronologico crescente ok non c'è modo di saltare coda degli eventi processare prima un evento futuro e poi solo dopo un evento precedente ok quindi qui non ci complichiamo la vita la coda degli eventi è un elemento che non è intelligente semplicemente mette in coda gli eventi e poi sa quale stare per primo l'intelligenza ce l'abbiamo nel modello del paziente in questo caso in parte e anche nel 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 codice che elabora l'evento stesso allora qui abbiamo i due pilastri quindi abbiamo costruito l'evento e il paziente quindi possiamo cominciare a costruire il simulatore ok allora il nostro simulatore quindi avrà che cosa noi abbiamo detto dovrà avere la coda degli eventi dovrà avere il modello del mondo questo è vero per qualunque simulatore del mondo dovrà avere dei parametri di input quindi parametri di input della simulazione dovrà avere dei parametri di output che sono i valori calcolati dal simulatore stesso e quindi rispondiamo separatamente a ciascuna di queste quattro domande allora la coda degli eventi sarà la nostra una coda prioritaria priority queue di event e la posso chiamare queue il modello del mondo allora rispondo anche ad Alessandro nel frattempo abbiamo creato una coda prioritaria di event event posso inserire una coda prioritaria perché implementa il metodo comparable la domanda di Alessandro è cosa c'hai messo qua dentro ovviamente devo sempre mettere la stessa classe che sto dichiarando quindi di fatto dice l'evento è in grado di essere confrontato con altri oggetti di tipo evento e certo altri oggetti di se stesso purtroppo Java non è abbastanza furbo da poter capire che comparable è sempre con se stesso e quindi sono io che devo aggiungere qual è il tipo di oggetto con cui mi confronto in realtà non è che non sia abbastanza furbo ma nel caso in cui avessi classi sotto classi le cose si complicano un pochino ma se abbiamo una classe sola devo sempre confrontarmi con altri oggetti del mio stesso tipo e quindi comparable di event permette di creare di essere inserito in una priority queue di event ok il modello del mondo che cos'è il modello del mondo è un elenco di pazienti una collection di qualche tipo che contenga i nostri pazienti cosa può essere questa collection può essere una lista di pazienti chiamiamola patients ad esempio oppure può essere a sua volta una cosa prioritaria di pazienti perché no perché i pazienti in qualche modo dovranno essere estratti o meglio selezionati dalla dalla sala d'attesa con un criterio che non è il criterio temporale di arrivo è un criterio appunto di priorità quindi sta un po' noi scegliere come magari lo possiamo scegliere anche tra un attimo nel senso che cominciamo a scrivere il codice poi e ce ne accorgiamo di che cosa ci serve di più se ci conviene tenere i pazienti in una lista oppure avere i pazienti in una coda prioritaria e allora averli in una coda prioritaria sarebbe molto utile per quando sono in sala d'attesa il problema è che non sempre sono in sala d'attesa e allora non avrebbe senso tenere in una coda prioritaria anche pazienti che sono già usciti perché in qualche modo non sono da elaborare non sono mai da estrarre quindi probabilmente scopriremo che magari ci servono entrambe le cose per ora partiamo dal semplice diciamo che abbiamo una lista una collection in cui abbiamo messo tutti i pazienti che sono arrivati tutti i pazienti che sono arrivati tutti da quando li creo a quando o vengono curati o vengono morti cioè io questa lista aggiungo solo poi eventualmente per gestire la lista d'attesa magari un sotto insieme di questi pazienti cioè quelli che sono in attesa magari li mettiamo in una coda prioritaria solamente per essere più svegli più rapidi a capire chi è il prossimo che deve entrare quindi e prima però prima del triage e dopo che sono stati curati non ha senso che vengano diciamo così associati in una priorità di attesa quindi per ora partiamo dalla cosa semplice diciamo che abbiamo una lista poi man mano che implementiamo torneremo su a ragionare su che cosa ci può appoggiare l'altra cosa che dobbiamo modellare qua nel modello del mondo è anche lo stato degli studi medici cioè noi abbiamo questi studi medici che a un certo punto ci devono chiamare dire sono libero e allora devo sapere quanti ne ho liberi e quanti ne ho occupati ovviamente dovrò anche sapere quanti ne ho in totale ok allora qui avrò queste altre due informazioni quanti studi sono liberi che è quindi un intero studi liberi qui stavo scrivendo le variabili in inglese usiamo anche print private anche qua ho dimenticato di scrivere private è l'uno di mattina per tutti scusate private int free studios numero di studi medici liberi oppure occupati boh è uguale numero studi liberi e ovviamente avrò il numero totale di total studios il numero di quanti studi medici ho in totale che è il parametro ns delle slide free studio parte da ns dal num datto studio ogni volta che viene chiamato un paziente chiaramente si decrementa fino a zero quando sono a zero vuol dire che gli studi sono tutti occupati quindi in questo modo non posso chiamare nessuno dalla lista d'attesa il tot studio ovviamente lo metto tra i parametri di input perché viene fornito dall'esterno mi dà la configurazione nel sistema ed è una costante durante la mia simulazione mentre il numero di studi liberi varia si incrementa o si decrementa a seconda dei pazienti che entrano e che escono ok quali altri parametri di input abbiamo abbiamo tutti i tempi tutte le costanti temporali quindi abbiamo cosa abbiamo il tasso di arrivo numero pazienti numero pazienti intersimulare np si chiamava nelle slide poi avrò tutti gli intervalli di tempo quindi il tasso di arrivo dei pazienti quindi diciamo così mettiamo insieme queste due variabili sui pazienti è un duration t arrival l'abbiamo chiamato così nella slide se non sbaglio e possiamo anche dargli un valore di default che può essere quindi qua importiamo già appunto time che può essere duration of 5 minuti magari of minutes 5 poi abbiamo il tempo necessario per fare le varie operazioni in questa tabella qua duration triage duration white yellow red eccetera quindi abbiamo private duration duration triage beh ce la faccio triage uguale duration punto era 5 minuti poi abbiamo duration white cioè quanto ci mette a curare un codice bianco dopo che è entrato nello studio mi sembra che fosse 10 10 poi quanto ci mette a curare un codice giallo e sono 15 e quanto ci mette a curare un codice rosso saranno 30 e poi ci sono i vari timeout la durata dei vari timeout li abbiamo scritti da qualche parte no non erano scritti da nessuna parte però sono delle costanti che dobbiamo in qualche modo modellare private duration timeout white cioè il tempo per cui un bianco poi si stufa e va a casa diciamo un'ora poi abbiamo i timeout gialli che yellow il tempo dopo il quale diciamo così un giallo se rimane attesa in vento più di 30 minuti si aggrava diventa un codice rosso e poi ho il timeout dei red che sono il tempo diciamo lasciamo di uno 30 minuti dopo di cui se un codice rosso rimane in attesa muore ok non credo che ci siano altre variabili temporali tutte queste variabili chiaramente gli ho dato qua un valore di default ma dovranno essere liberamente impostabili anche dall'esterno dall'utente del simulatore ok abbiamo ancora l'altra informazione che c'era sulle slide che è la durata della simulazione quindi dalle 8 alle 20 questo è l'altro dato che mi interessa e quindi anche qua mettiamo private local time start time uguale local time ov punto ov 8 0 0 e il tempo di fine sarà un end time finiamo la simulazione alle 20 e qui c'è un po' di roba sono tutte le varie costanti i vari diciamo così pomellini che possiamo regolare per cambiare la caratteristica della simulazione e cosa devo calcolare alla fine ok mi diceva il numero di pazienti che ho curato il numero di pazienti che hanno abbandonato e il numero di pazienti che sono morti e non le tre quindi private int patients treated private int patients abandoned private int patients dead dead i morti e questi sono i valori che dobbiamo calcolare speriamo di non aver dimenticato nulla e adesso c'è la parte più facile che è quella di impostare diciamo così il simulatore più facile nel senso che poi è sistematica un blocco per volta ma saranno tutte cose molto simili quindi dovrò creare un costruttore per questo simulatore che in realtà nel costruttore potrò dare magari i parametri fondamentali che sono il numero di studi e il numero di pazienti eventualmente e poi tutto il resto ho già un valore di default quindi questi vedete che questi due parametri non hanno dato un valore di default perché effettivamente sono quelli che sono più importanti allora questi potrebbero essere i parametri del costruttore costruire un simulatore che lavora con questi parametri dopo di che tutti gli altri possono essere modificati oppure oppure no nel senso che posso lasciare anche questi dei valori di default in modo che possa essere modificabile anche posso fare più run più più esecuzioni diverse del simulatore modificando questi parametri forse è ancora più comodo per chi lo costruisce quindi magari mettiamo anche qua dei valori di default tra 3 e noi i pazienti che supponiamo facciamo un conticino così a spanne diciamo che visto che lo studio è aperto 12 ore e arriva un paziente ogni 5 minuti quindi sono 12 pazienti ogni ora ok arriva uno in 5 minuti per 12 ore sarebbero 144 pazienti se riempissimo su 5 minuti magari ne facciamo arrivare qualcuno in meno così verso le 20 di sera diciamo un po' a a diciamo così smaltire le code quindi ne mettiamo ad esempio 120 però sono valori di default che poi l'utilizzatore del simulatore dovrà cambiare allora in questo caso vuol dire che il costruttore non ha bisogno di far nulla di particolare e mi costruisco invece un metodo visto che qua ci sono tante strutture dati da creare la coda eccetera tanti valori da inizializzare posso chiamare questo metodo init che inizializza il simulatore preparando tutte le strutture dati che servono quindi diciamo così questo metodo inizializza il simulatore separato che potrebbe essere separato dal metodo run che esegue la simulazione vera e propria ovviamente prima di inizializzare il simulatore dovremo impostare tutti i parametri di simulazione che vogliamo e quindi di tutte queste variabili qua tutti i parametri di input dovremo dare possibilità di essere modificati prima di chiamare init poi quando chiamo init in realtà non dovrò più modificare nulla inizializza il simulatore e crea gli eventi iniziali sulla base ovviamente dei parametri che ho ricevuto quindi tutti questi questi variabili qua devono avere un metodo set che permette dall'esterno di impostare un certo valore quindi quando genero i get resetter allora per tutti questi valori devo generare solamente il set dall'esterno lo posso scrivere ma non ha senso che lo legga quindi ti arrival vado in ordine ho il set poi totstudios nonpatients allora totstudios ho il set nonpatients ho il set poi ho le varie duration anche qua questi tre devo mettere tutti il set duration set duration set duration set duration poi i timeout set 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 start time and time anche questi devono essere impostabili dall'esterno a piacere i parametri di ingresso ovviamente devono essere impostabili dall'esterno quindi devo avere un set quindi totstudios nonpatients duration timeout ok e mettili in fondo diciamo così ok mi sono fatto generare dai clips vado giù in fondo tutti i vari set per tutti quelli che abbiamo chiamato i parametri di ingresso e analogamente mi farò generare dei get per i parametri di uscita in modo che alla fine della simulazione li possa leggere quindi anche qua generate patient treated è qua deve avere il get dall'esterno lo deve leggere patient dead e patient abandoned e genero i tre getter ok quindi setter per i parametri di ingresso e i getter per i parametri di uscita poi me lo ha messo qua maledizione lo volevo in fondo e lo sposto in fondo così li ho fuori dalla vista ok questo operazioni minime per per renderlo funzionale adesso cosa dobbiamo fare in fase di inizializzazione cosa dobbiamo fare in fase di esecuzione e poi avremo ovviamente il nostro classico procedura privata che è quella che fa tutto il lavoro complicato che avevamo sempre chiamato process event che riceve un evento per volta e decide che cosa farne ok sulla coda degli eventi eccetera eccetera allora partiamo dall'inizializzazione inizializzazione del simulatore mi richiede ovviamente di inizializzare tutte le strutture dati che mi servono fondamentalmente la coda degli eventi e l'elenco dei pazienti quindi abbiamo this.queue creo una nuova priority queue ok vuota e this.patience patience 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 uguale creo una nuova array list poi vediamo se dovrà essere una linked list a seconda delle operazioni che ci dovremmo fare quindi qui creo una new così non ho problemi ogni volta che chiamo init riparto da capo ok ogni volta che chiamo il metodo init vado a ricostruire tutto il simulatore da zero partendo dai valori dei parametri di input dai valori specificati dei parametri di input quindi ho inizializzato le strutture dati di base devo inizializzare anche tutto diciamo così il modello del mondo cioè la coda degli eventi e il modello del mondo che sono le parti che evolvono dinamicamente li dovrò inizializzare a un valore sensato corretto nel mio metodo init ok quindi ho anche free studios quindi devo mettere free studios inizialmente dis.free studios uguale al numero di studi complessivi dis.tot studios cioè inizialmente sono tutti liberi ok quindi qui ho inizializzato la coda degli eventi e il modello del mondo se vogliamo aggiungiamolo inizializza coda eventi e inizializza il modello del mondo adesso deve iniettare gli eventi di input cioè alla fine adesso dovrò mettere dentro i pazienti creare i pazienti dalle 8 del mattino all'eventi di sera fino al numero massimo di pazienti che è dato da questo non-patients che ho a disposizione e li devo inserire nella coda degli eventi inserendo l'evento quale? il fatto che il paziente arrivi quindi all'inizio io devo inserire tanti eventi tipo arrival con pazienti vari ok? quindi devo precaricare il simulatore con tutti gli eventi di arrival gli eventi di input che sono di tutti di tipo arrival e allora qui inizierò local time parto dall'ora di inizio e quindi è this.start time e cominciamo posso avere un int il numero di pazienti inseriti uguale 0 e inserisco utenti finché l'ora è before dell'ora di fine e inseriti è minore di this. numero di pazienti che devo inserire cioè finché non ho ancora raggiunto l'ora di chiusura ma contemporaneamente ci sono ancora pazienti che devo inserire li inserisco quindi io vuol dire che in funzione di questi due parametri di durata tempo eccetera numero di pazienti se ho troppi pazienti che vanno oltre le 20 comunque non inserisco tutti se invece finisco tutti i pazienti alle 2 del pomeriggio mi interrompo comunque non vado a inserirne altri fino alle 20 perché ho esaurito il numero di pazienti che avevo come parametro di simulazione e quindi per ognuno di questi dovrò creare un nuovo paziente e inserirlo nella coda e poi ovviamente ora uguale ora plus duration t arrival ok faccio passare faccio incremento l'ora e incremento il numero di pazienti inseriti ok queste sono le due operazioni che farò per passare da un paziente a quello successivo qui in mezzo che devo fare devo creare un paziente creare un evento che rappresenti l'arrivo di quel paziente quindi creerò un paziente p new patient e poi dobbiamo però metterci parametri del costruttore e poi creerò a questo punto un evento e uguale new event con i suoi parametri e alla fine semplicemente lo aggiungerò in coda this.q punto add dell'evento e in più il paziente abbiamo detto che lo aggiungiamo in una lista scusate nella lista di tutti i pazienti che abbiamo ricevuto così li abbiamo non ci dimentichiamo visto che li abbiamo creati this.patients punto add di p chiamato p il paziente ok quindi creo l'oggetto paziente creo l'oggetto evento il paziente lo metto nella lista dei pazienti che mi serve per contarli vediamo cosa ci serviranno comunque rappresenta il mondo di tutti i pazienti che o avrò e invece l'evento rappresenta la coda chiaramente di simulazione allora quali sono i parametri di patient della classe paziente e abbiamo local time e color code allora local time è facile perché è l'ora di simulazione il paziente è arrivato a quest'ora il color code quale deve essere e beh il 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 testo ci diceva di andare partire da un bianco e poi a rotazione bianco giallo rosso bianco giallo rosso e così via ok quindi possiamo possiamo partire dal colore quindi possiamo dire che il colore che è un patient una variabile tipo patient punto color code colore inizialmente si ha un color code white quindi anche qui abbiamo una variabile che aggiorniamo dentro il ciclo e quindi questo è un colore gli passo questo colore che inizialmente è white poi quando passo da un paziente a quello successivo dovrò cambiare il codice colore e aggiornarlo e quindi se per caso colore è uguale mettiamo equals a color code punto white allora dovrò dire che colore è uguale a color code punto yellow altrimenti as if colore equals se fosse invece era giallo il prossimo paziente che arriva sarà rosso altrimenti beh vuol dire che era rosso allora il prossimo paziente che arriva sarà bianco quindi tre righe antipatiche di codice semplicemente per dire qual è il colore del paziente che sta arrivando mi state dicendo delle cose che sono giuste probabilmente sì perché nella trio questo non dovrebbe essere fatto quando processiamo l'evento triage avete ragione voi sì non è troppo presto per segnare il colore adesso certo 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 quindi questo codice qui non serve adesso serve quando farò il triage scusatemi per ora lo commento perché è il triage che assegna i colori diciamo così a rotazione avete ragione quindi in realtà qua l'unico colore che ci metto che ci devo mettere è anche questo non mi serve più teniamo il codice perché ci serve da più avanti quindi adesso è l'evento di arrivo quindi il colore l'abbiamo chiamato grazie per avermelo new il codice new quindi color code punto new e poi alla fine del triage giustamente come mi dite dovrò assegnare poi il colore ok a questo punto scusate per la digressione ma questo codice qua lo spostiamo ci servirà più avanti crea un evento quindi arrivato un paziente giustamente non so ancora il colore crea un evento a cui devo passare il tempo il tipo di evento e il riferimento all'oggetto paziente che rappresenta quale paziente sta arrivando ok quindi il tempo è ora il tipo di evento è event type punto arrival e il paziente è il nostro p ok quindi al netto di questo casino che ho fatto con i colori che non servivano ancora abbiamo riempito la coda degli eventi di eventi arrival di tanti pazienti p ok che che abbiamo anche memorizzato in una lista per tranquillità e su tutti i pazienti p saranno avranno codice new per il momento ok questo è l'inizializzazione direi che a questo punto siamo a posto perché abbiamo inizializzato lo stato del mondo e la coda degli eventi con gli eventi iniziali adesso il codice più semplice è questo qua in cui si esegue la simulazione che è semplicemente il codice di estrazione dalla coda ogni volta del prossimo evento e della chiamata del prossimo evento sull'evento stesso quindi qua tipicamente sarà semplicemente un codice while ah no ancora un'altra cosa devo fare nell'inizializzazione devo inizializzare i parametri di output devo metterli a zero perché altrimenti quando ricomincio la simulazione con nuova init ovviamente dovrò ripartire a contare da zero quindi prima di iniettare gli eventi di input inizializza i parametri di output parametri di output eccoli qua e che sono this.patience abandoned uguale a zero this.patience dead uguale a zero e speriamo che ci rimanga e this.patience treated uguale a zero ok ok adesso possiamo arrivare finalmente come l'ho ricordato nella simulazione perché poi mi vedevo questi valori cambiare e mi sono ricordato che ne avevo inizializzati while this.q q.isempty è falso quindi while not finché la coda non è vuota vado a estrarre un evento dalla coda .pol e process event di e il metodo run per noi è molto semplice ecco magari approfittiamo di aver scritto il metodo run e process event è ancora vuota per verificare cosa abbiamo messo nella coda questo è il primo punto il primo momento in cui effettivamente possiamo fare qualcosa di utile ok dentro il simulatore possiamo provare ad eseguire il simulatore stesso quindi ma qui potremmo magari fare una piccola stampa dell'evento stesso prima di processarlo quindi system punto out punto print line dell'evento così vediamo cosa abbiamo messo dentro ok per far funzionare il print line mi serve ancora un secondo per mettere il to string dentro evento e magari anche dentro paziente quindi aggiungiamo ancora to string dentro la classe event scusami dentro la classe evento source to string time type patient va bene e poi patient a sua volta anche lui avrà un suo to string che ha l'arrival time e il colore così possiamo stampare qualcosa allora a questo punto possiamo scrivere due righe dentro il test simulator simulator sim uguale new simulator a questo punto sim punto init qui potremmo a questo punto modificare tutte le variabili che vogliamo di ingresso ma per noi hanno tutto un valore di default quindi per il momento come prima e poi possiamo fare un sim punto run dopodiché quindi qua potremmo impostare i parametri eseguire la simulazione e poi in fondo potremmo leggere l'output ok allora così vediamo cosa succede se va subito in crash che ci siamo dimenticati già qualcosa oppure se possiamo continuare con l'implementazione allora non è andato in crash stranamente e mi dice che c'è un evento alle ore 8 che è l'arrivo di un paziente che ovviamente si ricorda che è arrivato alle 8 di colore nuovo 8.5 arrival patient 8.05 colore new e va avanti per un certo numero di pazienti tutti uguali fino alle 17.55 fino alle ore 18 praticamente dove probabilmente ci sono esauriti i pazienti da considerare ok quindi finora sembra corretto ok abbiamo avvieremo la simulazione a partire da questa coda degli eventi adesso bisogna fare funzionare il mondo quindi tutto il resto del lavoro sarà dentro questa process event che come sempre ha un evento e deve fare cose diverse in funzione del tipo dell'evento quindi ci sarà un bello switch sulla base del tipo dell'evento get type e in ciascuno caso in ciascuno diciamo così il ramo di questo switch dovrò fare cose diverse e quindi abbastanza può essere lungo perché abbiamo allora quali sono gli eventi il bello di avere un enum che tu arrivi qua fai il controspazio e ti dà l'elenco degli eventi arrival break poi un secondo caso che è andiamo in ordine timeout natural triage che è quello subito dopo break poi un punto e virgola poi un terzo caso poi un terzo caso che è quello dei possibili mettiamo prima il caso normale free studio si libera uno studio e quindi vado break e poi ho i vari timeout break e poi avrò l'ultimo caso che rimane non è rimasto niente arrival triage free studio timeout e sono solo questi arrival triage free studio arrival free free timeout e ci treated ok quindi treated due punti break e non ci sono altri casi quindi questi sono tutti i casi tutti i tipi di eventi che devo che devo gestire allora quando arriva un paziente cosa devo fare e qui la domanda è semplice è questa quando succede questo evento con un certo paziente che conosco quindi magari quello che posso fare prima per comodità mia posso anche estrarmi il paziente p dall'evento così non devo scrivere 100.000 volte e.getpatient e posso anche estrarmi la local time ora da e.gettime quindi estremo queste informazioni e dal paziente posso anche posso anche estrarmi il codice colore del paziente solo per comodità mia patient.color code colore uguale p.getcolor quindi ho comode queste tre variabili le informazioni che mi serviranno per decidere non solo estratte semplicemente adesso se sono in evento di arrival quindi il paziente è arrivato io devo decidere che tra 5 minuti finirà il triage non devo fare altro ok quindi semplicemente nel momento in cui il paziente è arrivato quando consumo l'evento arrivo paziente devo schedulare prevedere un evento di fine triage tra 5 minuti quindi qui dovrò semplicemente dire allora io dovrò creare un nuovo this.queue.add un nuovo evento new event di con tre allora questo ha sempre tre parametri il primo parametro è l'ora quindi quando capiterà l'evento il tipo di evento è il paziente allora come paziente teniamo p il tipo di evento sarà triage event type punto triage e l'ora sarà adesso più la duration del triage non ho altro da fare il modello del mondo non cambia perché non arrivano i pazienti i pazienti non cambiano colore vediamo un po' il paziente lui aveva perché siamo sempre new rimane sempre new perché non ha ancora un codice colore segnato è in attesa del triage quindi non devo cambiare il colore del paziente non devo aggiornare nessuno dei contatori in output e quindi ho finito triage ok quindi è arrivato viene messo in triage se vogliamo possiamo rifare la simulazione anzi conviene farlo ogni volta e vedere cosa succede vediamo che a questo punto abbiamo alle 8 arriva un certo tizio alle 8.05 arriva un secondo tizio ma anche alle 8.05 viene terminata il triage del primo tizio che è arrivato poi alle 8.10 arriva un altro alle 8.10 c'è il triage del secondo e così via ok quindi qui vediamo un alternarsi di arrival e triage di tutti i pazienti e il triage di ogni paziente è vedete che qua c'è un triage alle 8.05 di un paziente che era arrivato alle 8.00 e così via qui c'è l'arrival alle 8.40 alle 8.45 qua sotto c'è un triage del paziente che è arrivato alle 8.40 quindi non stiamo mescolando questi pazienti Alessandro essendo new non va subito nel default qui non c'è nessun default in questo se stai parlando di questo switch non c'è nessun default poi attenzione il tipo di evento non è new non confondiamo è al paziente torniamo su quando ho inserito gli eventi il tipo di evento era arrival new era il colore del paziente ok purtroppo abbiamo questa doppia struttura dati da mantenere qual è np Lorenzo mi chiede np era il numero di pazienti se è questo che mi chiedi è il parametro che io ho chiamato non patients questo cioè il numero totale di pazienti che vogliamo simulare in questa giornata che è un parametro di ingresso che come default messo 120 ok arrival triage triage devo creare un nuovo evento che metta la persona innanzitutto quando io termino il triage questo utente avrà un colore quindi sono all'istante di tempo in cui ho finito il triage e devo dare un colore devo fare un set color al nostro paziente P dopodiché dovrò schedulare eventuali time out in funzione del colore che ho segnato allora qui è dove devo giocare con quel codice di prima che avevo scritto ma poi commentato di un colore che si incrementa ogni volta ok lo posso mettere in cui questo codice colore chiamiamolo facciamo così mettiamolo in una funzioncina perché il codice è veramente antipatico questo quindi chiamiamolo private paziente punto patient punto col ecco l'ho scritto con la z per quello non la trovava punto color code prossimo colore e questo controlla prende una variabile di classe quindi diciamo private tint private color code sempre che chiamiamo ultimo colore l'ho inizializzato white no non devo inizializzare la white qua color code punto white e poi ogni volta vado a vedere se questa è una variabile che userò solamente all'interno di questa funzione se è l'ultimo colore allora lo cambio ultimo colore lo cambio e poi faccio un return di ultimo colore ok quindi ogni volta che chiamo questa funzione mi darà il prossimo colore partendo dal bianco e andando avanti questo è il codice che avevo scritto prima l'ho spostato in una funzione a sé stante e quindi la posso usare qua quando nel triage imposto il colore del paziente P ha il suo colore nuovo quindi chiamo prossimo colore del paziente P ok quindi questa mi genera potrebbe essere una funzione dentro cui ho una generazione casuale del codice colore o la prendo da qualche da qualche altro criterio per ora abbiamo un meccanismo a rotazione ok alla fine del triage e imposto questo paziente col nuovo colore adesso devo definire il cosa può succedere adesso a questo punto il paziente è in sala d'attesa è in sala d'attesa con un certo colore è in waiting rosso waiting bianco waiting giallo cosa può succedere che io posso impostare dei time out a seconda del colore che gli ho dato imposterò un time out diverso quindi se il colore che gli ho dato P.getColor fosse uguale al colore patient.color code white allora imposterò un evento che scatta dopo il time out del bianco e quindi l'evento sarà dunque new event col tempo ora plus il time out del bianco il tipo di evento è event type punto time out il paziente è sempre P allora ho preso un paziente e gli ho segnato un colore se il colore che gli ho appena segnato è bianco allora schedulo l'evento time out dopo una durata appare al time out di attesa dei bianchi sempre per il paziente P quindi ho aggiornato l'informazione sul paziente P e ho schedulato il prossimo evento che succederà se non succede nient'altro al paziente P e poi vado avanti else se invece era giallo farò giallo se invece era rosso farò il time out del rosso quindi yellow yellow red red e proviamo a vedere cosa succede nel nostro simulatore allora abbiamo degli eventi in più che prima non c'erano arrival arrival triage quindi qui è arrivato questo type triage questo color new è il colore del paziente che ho estratto dalla coda con l'evento triage quindi lo reinserirò di nuovo con un colore vediamo se c'è un colore in time out eccolo qua yellow quindi ad esempio qui c'era un paziente che era entrato alle ore 8 che aveva il colore giallo cioè a cui è stato segnato il colore giallo alle 8.35 è scattato il time out perché un giallo dopo 30 minuti quindi era questo paziente qui era quello delle 8 a cui abbiamo assegnato il giallo perché ho chiamato il prossimo quindi dal bianco passa subito il giallo vabbè è un dettaglio e quindi alle 8.30 alle 8.05 viene inserito il triage e alle 8.35 scatta già il time out perché lui ha già dalle 8.05 alle 8.35 ha già aspettato 30 minuti con il colore giallo e quindi in qualche modo si aggrava qui c'è un altro time out di un paziente rosso che era entrato alle 8.05 quindi alle 8.10 è finito il triage è rimasto in attesa 30 minuti e alle 8.40 è morto poi abbiamo un altro time out qua sotto di un paziente giallo vediamo se c'è un time out di un paziente bianco prima o poi quindi hanno un tempo di attesa maggiore eccolo qua di un'ora quindi quando il paziente bianco era arrivato alle 8.10 avrà finito il triage alle 8.15 e alle 9.15 si è stufato e è andato a casa sì Irene hai ragione infatti questa simulazione parte come primo colore yellow anziché come primo colore white perché ho sbagliato a inizializzare il valore iniziale del colore adesso lo andiamo subito a correggere proprio per questo mi piace scrivo tra righe di codice e lo testo perché mi accorgo subito di questi problemi perché so su che cosa concentrarmi mi concentro sul codice che ho appena scritto altrimenti quando si scrivessimo troppo codice alla fine c'è un problema e rischia di rischiamo anche di non accorgersene di non notarlo in mezzo a tutto l'output quindi in realtà quello che abbiamo che ho sbagliato qua in realtà l'ho sbagliato due volte sono stato pigro e la pigrizia non paga mai questa variabile qui non va inizializzata qua perché se io facessi più volte init e facessi più simulazioni di fila devo inizializzarlo ogni volta quindi questa inizializzazione qua va dentro init c'è poco da fare quindi dimentichiamo la pigrizia facciamo le cose come vanno fatte la dichiarazione della variabile la faccio di fatto qua dove dichiaro il modello del mondo che non è proprio il modello del mondo ma vabbè insomma è un pezzo del mondo che sto creando e l'inizializzazione vera e propria la metto nel metodo init qua così sono sicuro che ogni volta che chiamo init inizializzo il colore a red e so che la mia funzione che genera i colori come primo mi darà il colore il colore bianco ok poi ci sono 100 altri modi di farlo ovviamente però così sono sicuro che sia ripetibile la simulazione in questo caso dovrei vedere che i primi time out sono sempre gialli ma il primo paziente perché sono più brevi il primo time out è giallo però del secondo paziente che è arrivato vediamo che è quello 2805 volendo adesso mi sto accorgendo che per facilità di debug sarebbe tanto carino avere anche un campo numerico dentro il paziente paziente numero 1 2 3 4 5 così è più facile anche capire seguire il singolo paziente quindi se volessimo potremmo aggiungere un campo anche numerico dentro il paziente ok quindi abbiamo trattato l'arrivo il triage possiamo trattare ancora perché è facile il time out e poi facciamo un po' di intervallo ok il time out è relativamente facile perché il time out significa semplicemente mi tolgo da un colore da uno stato e vado in uno stato diverso l'evento time out si comporta in modo diverso a seconda del colore che ha il paziente ricordiamoci che l'evento time out può solo scattare se sono in lista d'attesa e quindi sono in uno di quei tre stati white yellow oppure red e faccio cose diverse ovviamente ok allora a questo punto potrò ad esempio fare uno switch anche qua uno switch andato dentro uno switch e vabbè sulla base del colore colore ricordiamoci che l'abbiamo estratto dal paziente che può essere color si chiamava colore che può essere a questo punto io so che il time out può arrivare solamente se il colore era white può arrivare solamente se il colore era yellow può arrivare solamente se il colore era red se arrivasse un time out in qualunque altro caso c'è qualche problema ma non deve succedere proviamo a metterlo nel caso di default stampiamo un messaggio di errore poi in realtà in alcuni casi potrà capitare lo vedremo system.out print line è arrivato errore time out con colore più colore vediamo cosa capita ok allora se il time out se io ero in bianco e scatta il time out vado a casa quindi vado a casa cosa vuol dire vuol dire che il paziente lo posso mettere semplicemente out non devo fare altro e non devo generare nuovi eventi semplicemente registro il fatto che il paziente è andato a casa quindi nel mio simulatore dirò che il paziente qui punto set color diventa white no scusate diventa out color code punto out tu sei fuori e mi ricordo che devo incrementare il numero di pazienti abbandonati non devo più schedulare nessun evento perché questo paziente ormai me lo sono tolto dai piedi caso giallo il paziente è giallo e quindi al scattare il suo time out peggiora diventa un paziente rosso quindi innanzitutto dico che diventa un paziente rosso red e essendo un paziente rosso devo fare ciò che facevo sui pazienti rossi cioè schedulare un time out di rossi quindi dovrò andare a aggiungere fare esattamente quello che facevo prima con il triage con un rosso cioè aggiungo il time out del rosso quindi poiché è diventato rosso è come se fosse un rosso adesso e quindi vale il suo tempo di 30 minuti per cui un rosso può aspettare dopodiché muore e lo schedulerò tra 30 minuti se invece arriva un time out quando sono rosso allora sono morto e quindi il paziente morto ha uno stato un codice colore che è sempre no che è black in questo caso abbiamo deciso black out forse possono essere la stessa cosa ma chiamiamolo black quindi p.setcolor color code punto black e non devo fare nient'altro se non ricordarmi di contare i morti patience dead più più quindi mi sposto da uno stato all'altro a seconda delle priorità chiaramente qua poiché non abbiamo mai l'evento free studio in cui posso venire curato o abbandonano o muoiono tutti noi stiamo uccidendo tutti in questo nostro pronto soccorso perché non ci sono medici che chiamano però lo vediamo ad esempio vedete che alla fine abbiamo tutta una serie di time out di pazienti questo qua è bianco va a casa e poi abbiamo dei time out con i rossi rossi e bianchi perché tutti i gialli nel frattempo si sono trasformati in rossi ok quindi se volessimo seguire che cosa ha fatto ad esempio quello di arrival time 0 sappiamo che è bianco quello di arrival time 05 sappiamo che è giallo quindi se andiamo a cercare arrival time 05 vediamo che cosa gli succede lui è arrivato gli facciamo il triage è scattato il time out da giallo alle 8.40 quindi qua è diventato rosso e qua è morto alle 9.10 perché è scattato il secondo time out di un paziente che era già rosso ok ok ciò che ci manca ancora quindi qui abbiamo gestito questi tre eventi arrivo triage e time out il caso treat è di nuovo banale perché basterà dire beh ti conto come guarito e basta ed esci la cosa complicata è il free studio cioè il fatto di entrare in uno studio perché qui dentro ci sarà poi la logica di gestione delle priorità del paziente stesso cioè chi deve entrare in uno studio quando uno studio si libera e poi ci saranno dei problemini sull'avvio della simulazione che poi vedremo sul fatto che ci vabbè ma lo vediamo dopo quindi io fare un po' di pausa evidentemente la parte sui grafici che pensavo di fare non ci sta oggi perché terminiamo questo esercizio ma tutto sommato qua andiamo a toccare tanti ingredienti tanti problemini tante casistiche che poi troveremo anche negli altri esercizi più complicati quindi mi pare che valga la pena riuscire a spendere il tempo per analizzarlo con calma ok e terminare questo esercizio con calma certamente nell'intervallo faccio commit così potete se volete dare un'occhiata scaricarvelo e così poi tra 15 minuti come al solito riprendiamo e cerchiamo di completare questo evento ci è ribasto un evento solo ma purtroppo è abbastanza diciamo così denso di informazione anche questo ok allora faccio commit faccio intervallo ci rivediamo tra sono le 10 e 19 potrebbe essere alle 10 e 25 no aspetta 35 facciamo 10 e 30 facciamo solo 10 minuti di intervallo perché così recuperiamo i 5 minuti finali che lascio per tanti studenti ok quindi riprendiamo alle 10 e 30 dai che in 11 minuti ah gli ho scritto 31 dai via abbiamo regalato 1 il caso rosso è molto semplice lo faccio diventare black e lui è morto ok ci vediamo tra 10 minuti dai grazie a tutti